Buongiorno dalla redazione di Flores Multimedia in studio Nicola Giannattasio sulla FIPILI per lavori tre chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa in direzione Firenze rallentamenti sulla carreggiata opposta in direzione mare. Sempre in direzione mare ci sono rallentamenti per lavori tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Sulla statale 1 Aurelia per lavori tra Follonica Nord e Follonica Est scambio di carreggiata, chiusura dello svincolo di Follonica Nord in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento a 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero chiuso il tratto tra Borgo Ammozzano e Bagni di Lucca. Oversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!